C'è tanta magia, musica, avventura e tanto divertimento nel regno di Avalor. Io sono la principessa Elena di Avalor. Sono certa che vi divertirete. Sì! Siamo una bella squadra. La principessa Elena di Avalor vi aspetta tutti i giorni alle 17.35 su Rayo Yon. Se tu sei giù, ma non sai perché, c'è Dotti che è qui per te. La piccola Dotti è veramente una brava dottoressa. Puoi fare un respiro profondo? Da lei c'è sempre la fila per farsi curare. Su Rayo Yon, la dottoressa Peluche vi aspetta tutti i giorni alle 25.00. La dottoressa è qui! C'è chi è rosa, chi rosso, chi giallo, chi verde, chi nero, chi azzurro. Ma per tutti questi colori c'è un'unica grande famiglia! Quella dei Barba Papà! Resta di stucco! È un barbatrucco! I Barba Papà sono pronti a trasformarsi per voi tutti i giorni alle 11.45 e alle 22.00 su Rayo Yon. Alla Fiocco Boutique la moda è di casa e Minnie e Paperina sono sempre molto indaffarate. Sono favolosa! Oh, sei davvero geniale! Su Rayo Yon non perdete le avventure di Minnie Toons. Tutti i giorni alle 20.00. Tutti i giorni alle 20.00. Abbiamo aperto gli appianco Boutique! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! Tra poco, su Rayo Yon, gli incredibili eroi di DJ Masks. Il DJ Masks! C'è un contastorie! C'era una volta... Una graziosa bambina e... Un simpatico pupazzo! Bambini! Eccoli! Ciao, bambini! 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 Che vi aspettano per giocare con voi? Tutti i giorni alle 7.55 su Rayo Yon! Bambini! La loro forza non è solo data dalla magia, ma anche dalla straordinaria amicizia che le lega. Magic Winx! Le magiche Winx vi aspettano su Rayo Yon per stupirvi con i loro effetti speciali. Winx Club! Tutti i giorni alle 21.05. Che giornata fantastica! Ti vado a fare un salto nella mia casa? Tra poco, su Rayo Yon, si aprono le porte della casa di Topolino. Siete pronti a partire? E allora, tutti insieme alla stazione di Chuggington per seguire le divertenti avventure delle coloratissime locomotive. E ricordate, i treni di Chuggington partono dalla stazione di Rayo Yon tutti i giorni alle 10.45. Henry è un piccolo bambino vivace. Ha sempre qualcosa da fare e qualcuno da incontrare. Buongiorno, Statua! Buongiorno, Henry! Come stai oggi, Statua? Considerando che sono 4.000 anni che sto immobile in questa posizione, mi sento abbastanza bloccato. Oh! Ma così sto meglio! Tutti i giorni, alle 11.00 e alle 16.40, il giorno in cui Henry incontrò, vi aspetta su Rayo Yon Ecco qua il postino Pat e con lui c'è il suo gatto Jess La sua è la posta più famosa di tutta la città come anche il suo inseparabile gatto Jess compagno di tante avventure Servizio consegne speciali, missione compiuta! Il postino Pat vi aspetta con le sue consegne speciali tutti i giorni, alle 10.35, in prima visione Rayo Yon È pieno di felicità C'è una nube, ma che fa? Dolce e morbida, proprio come la sua casa Mofi, salta anche tu! Un batuffolo di cotone Insieme, la la la, la 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 candida coniglietta Mofi vi aspetta su Rayo Yon con la terza stagione, in prima visione tutti i giorni, alle 22.30 Tra poco, su Rayo Yon è in arrivo la risata della vostra amica Peppa Sono piccoli, ma molto determinati e ognuno di loro ha già un carattere ben preciso Farò un numero di magia incredibile! Tutti insieme formano una squadra vincente E adesso andiamo tutti a giocare Sì, sì, dai! Su Rayo Yon vi aspettano i mini cuccioli tutti i giorni, alle 12.15 La loro forza non è solo data dalla magia ma anche dalla straordinaria amicizia che le lega Magic Winks! E Magiche Winks vi aspettano su Rayo Yon per stupirvi con i loro effetti speciali Tutti i giorni, alle 15.15 e alle 21.15 Grazie a tutti!